Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 28 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Scorpione. Amore e carriera fanno appugni. Con venere trionfante nel vostro segno l'amore guadagna punteggio, è il numero uno dei vostri pensieri, garante dei momenti più felici. Peccato che a ostacolarlo, forse per gelosia, forse per smania di potere, entra in scena la luna, regina offesa in leone, difficile affrontare un confronto diretto, ma con il sole e mercurio in dodicesima casa la parola vi viene negata o vi si raggela in gola, tanto più che tra i segni dello zodiaco non comparite certo tra i più charlieri. Se poi vi sentite umiliati, trattati dall'alto in basso reagite scompigliando le carte in tavola o gettando i dadi per terra. Il gioco della vita ha le sue regole, ma per quanto riguarda la vostra non volete né vincitori né vinti. Capo instabile, ora dittatoriale, ora ambiguo, probabilmente non imune al vostro fascino, perciò si accanisce ancora di più. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce, si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Meglio essere sicuri in tutto quello che farete oggi, ogni più piccola indecisione, oggi, potrebbe essere fraintesa e presa come segno di debolezza. La pigrizia potrebbe essere fatale oggi per qualcosa che vi sta a cuore. Ridestatevi e uscite dal torpore che vi condiziona. In altre parole datevi da fare presto. Non intestarditevi sul conto di una persona che attualmente è concentrata su altro. Meglio aspettare senza frettare i tempi perché presto ci saranno novità. Per chi ha figli oggi questi potrebbero darvi dei problemi e farvi inquietare, non prendete il tutto con piglio accigliato, ma cercate di individuare la causa dei loro problemi e correte in loro aiuto. Rispondete prontamente a telefono, potrebbe esserci oggi una notizia importante che potreste perdervi per la pigrizia. Rifiutate qualche approccio poco elegante che avete ricevuto recentemente sui social, fate in modo da recuperare una parte della vostra vita reale. Avete solo una vita da vivere, fatelo fino in fondo. Molto bene la mattinata salvo qualche incomprensione tra amici o colleghi. Il pomeriggio sarà un po' noioso ma la serata. Notizie in arrivo da lontano o da persone che si erano allontanate. Se qualcuno oggi cercherà di farvi desistere da un vostro proposito non ascoltatelo e fate solo finta di accettare il suo consiglio, seguite il vostro istinto e continuate quello che avete iniziato. Poi raccoglierete i frutti. Spingete pure sull'acceleratore e rendetevi al più presto quanto più indipendenti riuscite. I tempi sono maturi per una vostra risurrezione. In tutti i sensi. Uno splendido Nettuno alleggerisce di molto lo spirito, ma soprattutto la vostra mente, in questa giornata settembrina. In primo piano oggi la mobilità, corsa, jogging e nuoto, faranno molto bene alla vostra tendenza alla sedentarietà. Venere precede i vostri passi. Nei vostri sport preferiti ci sono anche le attività di squadra e Plutone positivo dal segno amico del Capricorno, vi darà la possibilità di bruciare calorie e eliminare chili accumulati in eccesso, specie se siete nati in novembre. Sabato difficile per voi, firmato dalla bella Venere nel vostro segno, creativa come tutti gli artisti ma tormentata, doppiamente se innamorata, ma al momento non corrisposta. A farvelo intendere, sia pure con delicatezza, la coppia Sole-Mercurio taciturna ma ugualmente esplicita nella vostra dodicesima casa. Più graffiante la luna allo zenit in leone, impersonata da una donna importante ai vostri occhi, sia essa un amante, un'amica, una madre, oppure la vostra capa, qualcuno da cui non ricevete parole dolci ma critiche, che mettono in discussione i vostri sentimenti e i vostri talenti. Amore ed Eros. Di B e i sentimenti siete ricchissimi, come una botte piena di vino novello, ma il vostro imbarazzo nell'esprimerli fa che vengano travisati o che rimangano addirittura nascosti. Se il partner non è sulla stessa lunghezza d'onda non coglierà questa magnifica rosa d'autunno, peggio ancora se di partner non se ne vede nemmeno l'ombra e la famiglia, per quanto affettuosa, tende a soffocarvi. Insomma, da qualsiasi lato vi voltiate non vi sentite capiti. Ricordate che l'amore per i propri comodi, cui spesso andate soggetti, può essere l'esatto contrario dell'altruistico slancio verso il sentimento. Non lo dimenticate mai, specie se siete nati tra il 2 e il 16 del mese di novembre. Venere e Marte oggi vi rendono rispettosi del partner e interessati attivamente a tutto quel che fa concretamente e anche professionalmente. Lavoro e denaro. Capo intrattabile, succede di sabato, quando realizza di essere in ritardo sulla tabella di marcia e non vuole sfigurare con i piani alti dell'azienda. E allora chi dovrebbe torchiare se non voi, facendovi arrivare all'ora di uscita con la lingua fuori. Forse non sa che spiriti indomiti siete, non fiaccherà le vostre velleità, neppure mandandovi a casa trascinandovi sui gomiti, una doccia, un riposino e sarete pronti, come nuovi, per uscire a cena, andare a teatro, a ballare. Sarete timidi e di poche parole, ma il vostro magnetismo è una vera calamita. Se siete scorpione della terza decade, urano nel segno del toro, vi mette un po' sotto pressione. Potrete avvertire un momento di confusione professionale e c'è bisogno di schiarirvi le idee. Il vostro tocco di genialità si rivelerà essenziale per concludere positivamente un buon affare se siete liberi professionisti. Sarà netuno donarvi quel guizzo in più, necessario per farvi compiere l'impresa, specie se appartenete alla terza decade scorpionica. Benessere. Un filo di tosse, naso tappato, difficoltà a respirare. Sarà l'inquinamento cittadino, che di sabato raggiunge livelli da capogiro. Migliorerà domani con una gita in campagna, una pedalata tranquilla, tra colline, uliveti, vigneti, vi sentirete subito un altro, con un appetito da lupi. E così viste le calorie spese potrete regalarvi un bel pranzetto rustico in qualche trattoria di paese. Per lei, suocera detestabile, ma se sapeste cosa va dicendo lei di voi. Trovereste questo aggettivo quasi simpatico. Ah, l'infinita guerra tra due donne per l'amore dello stesso uomo. Per lui, la natura vi ha fatti proprio belli, ma avrebbe dovuto farvi anche un po' più studiosi e ora che la sera dopo il lavoro tentate di recuperare gli anni persi di universitale e fate le vostre rimostranze. Meno charme ma più testa, determinazione, serietà. Se almeno poteste rinascere. Colore delle emozioni, corallo. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 5, finanze, 10, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.